Attraverso il dono delle lacrime rendiamo la nostra preghiera e il nostro cammino di conversione sempre più autentici e senza iproquisia. Questa è la riflessione di Papa Francesco celebrando nel pomeriggio di ieri presso la Basilica di Santa Sabina all'Aventino la Santa Messa con il rito di benedizione in posizione delle ceneri. Nel mercoledì, che dà inizio alla Quaresima, il Pontefice, come da tradizione poco prima, ha guidato la processione penitenziale dalla vicina chiesa di Sant'Anselmo con cardinali, arcivescovi e vescovi, monaci benedettini, padri dominicali e fedeli. Ci farà bene a tutti, ma specialmente a noi sacerdoti, chiedere il dono delle lacrime, così da rendere la nostra preghiera e il nostro cammino di conversione sempre più autentici e senza ipocrisia, ha detto il Papa. Solo gli ipocriti, infatti, non sanno piangere, ha proseguito Francesco, perché hanno dimenticato come si fa. Inoltre, quando si compie qualcosa di buono, quasi istintivamente nasce in noi il desiderio di essere stimati e ammirati. Invece, Gesù ci invita a compiere queste opere senza alcuna ostentazione e a confidare unicamente nella ricompensa del Padre, che vede, ma nel segreto. Dall'altra parte, siamo creature limitate, peccatori sempre bisognosi di penitenza e di conversione. Questa è la verità dell'esistenza umana richiamata da Papa Francesco. Quindi, l'invito alla conversione è allora una spinta a tornare tra le braccia di Dio per fidarsi e affidarsi a Lui, intraprendendo il cammino di una conversione non superficiale e transitoria, ma un itinerario spirituale che riguarda il luogo più intimo della nostra persona, ossia il cuore. E il Signore, ha aggiunto il Papa, non si stanca mai di avere misericordia di noi, offrendoci il suo perdono, invitandoci a tornare a Lui con un cuore nuovo, purificato dal male, purificato per le lacrime, per prendere parte alla sua gioia. E quindi, poiché in Lui possiamo diventare giusti e possiamo cambiare, per favore, dice il Papa, fermiamoci un po' e lasciamoci riconciliare con Dio. Quindi, Bergoglio, dopo aver ricevuto le ceneri dal Cardinale Tomco, rievocando il momento biblico, ricordati che se polvere, polvere, ritornerai, le ha imposte anche ad alcuni dei presenti nella Basilica di Santa Sabina. L'esortazione finale del Papa è stata iniziare fiduciosi e gioiosi l'itinerario quaresimale, affidando a Maria il nostro combattimento spirituale contro il peccato, in modo tale che all'osservanza esteriore corrisponda a un profondo rinnovamento dello spirito.